E' la natura dell'essere umano, che sta in d'acqua. E con questo mi vorresti dire, San Diego, che adesso la porto è lì. Oh, ma mi carita, forse mi sono espresso male, ma se ci pensate bene, in due mila anni su questa terra sono successe sempre tanti tuoi. E anzi, dove si deve affazzare la tua bambina? Vabbè, ho capito, è meglio se non parlo più. Io invece sono preoccupata. Ma, ma, e di che cosa? Come, e di che cosa? Questi laggiù, con tutte le tragedie che stanno succedendo, credono sempre di meno, non pregano, e cosa ancora ci dure? Credono sempre più la fede. Ma, ma che cosa vuoi dire? E non so io che cosa vuoi dire. Qua mi sembra che tutti i mondi la stessa cosa. Dico bene, San Diego, questa volta non ho detto niente. Ecco, mio signore, scusa la strittenza, ma la cosa è di estremamente importanza. Va bene, figliosa, ma che ve l'ho aspettato? Se permettete, per farci pensionare di questa urgenza, caro Dio, abbiamo voluto ammazzarti con un battesto e non prego. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. I bambini sono stati come al solito bravissimi perché qualunque cosa facciano i bambini viene sempre tutto bene quindi anche questa commedia sarà scritta da Oreste De Santis, un noto autore di commedia napoletana che è scritta appositamente per i bambini e il titolo era Che Bel Natale è andato molto bene, siamo tutti contenti e alla fine i protagonisti sono sempre e soltanto i bambini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 un tuo parere sulla tua indefedrazione